amici di youtube venuti sul canale riparate oggi andremo a riparare una piastra per capelli marchio ghd modello ghd 4.2b vediamo se mettiamo a fuoco ok difetto della piastra non si accende non abbiamo nessun led di stem by e nessun led di accensione andremo ora a smontare la piastra e a verificare qual è il problema del prodotto amici di tube ecco ho appena smontato la nostra piastra ghd modello 4.2b lo smontaggio è facilissimo basta svitare le quattro viti che sono posizionate due qua e due qua si levano i coperchi sotto ci ritroviamo le due pcb più le piastre in ceramica la prima cosa da fare è levare il pcb con le due piastre mettiamo via queste vi ricordo che il problema della nostra piastra ghd è quello che non si accende quindi la prima cosa da fare è staccare la prima piastra dove c'è il termofusibile quindi andiamo a controllare la resistenza della piastra e termofusibile se risulta aperto o in continuità stessa cosa faremo sull'altra sull'altra parte sull'altra 11 di norma su queste piastre qui il difetto che da di non accensione lo portano questi due termo questi questi due resistori che sono i restori da 50 ohm cada uno una volta controllato se risultano aperti vanno sostituiti entrambi se tutto aperto entrambi vanno sostituiti se no se ne se ne risulta uno aperto che ne va sostituito uno oltre a questo andiamo a controllare poi le altre resistenze poste sulla nostra pcb che sono sono qui in di seguito abbiamo tre resistenze da 105 smd che corrispondono a un mille a un mega ohm in più ci sono varie resistenze piccoline poste su tutta la pcb questo è il microcontroller questo è un transistor qui abbiamo un diodo e qui ci sono dei piccoli condensatori ora io ho scaricato lo schema della ghd 4.0 che più o meno si avvicina a questa qui come come schema che in giro non si trova non si trova molto su queste su queste piastre sono piastre che costano un pochettino ma di qualità alta ora andiamo a misurare le nostre le nostre i nostri componenti sulla nostra pcb allora andiamo a misurare le resistenze r8 ed r11 che sono queste qua mi ricordo che questi due questi due resistenze devono dare valore 50 sul 50 ohm 51 allora vediamo se si vede così il tester e ci siamo 51 51 quindi queste due resistenze che di solito sono quelli che non fanno funzionare non fanno accendere la nostra piastra sono buone ora andiamo a misurare queste resistenze qua che devono essere da 1 mili ohm vediamo la prima e abbiamo già abbiamo una differenza mettiamo il tester in home mi da 670 kph è sbagliato questi misurano 466 diciamo sui 500 quindi questi qua già questi tre queste tre resistenze non vanno bene misuriamo la r6 qui è una resistenza da 103 smd smd 100k ohm la r3 la schema che vi lascerò giù in descrizione la r3 4 si 4,7 è giusto questo è giusto misuriamo le altre 270 ohm e ci siamo la r7 739 740 ohm anche questa è sempre ok io passerei a misurare il termofusibile il termofusibile questo deve dare allora deve dare un valore intorno ai 70 ohm quando è tolto dalla PCB e siamo sui 60 vediamo invece il fusibile è aperto quindi la causa potrebbe essere questa con le resistenze in smd che abbiamo visto prima vediamo l'altra parte della piastra si andiamo sui 70 così che è collegato direttamente alla PCB ora andrò giusto per sicurezza a staccare le 3 resistenze smd da 1 mega ohm le voglio controllare a banco senza essere collegate sulla PCB allora amici dopo aver dissaldato le 3 resistenze perché sono in parallelo ho verificato la misura delle resistenze da 1m ohm quindi le resistenze vanno bene non ci sono problemi sulle resistenze avevamo visto prima che davano un valore un po' falsato ma era il discorso perché erano messi in parallelo e quindi davano un falso valore allora il problema secondo me rimane sul sul fusibile e le piastre perché sono andato poi a smontare ogni singola piastra danno un valore diverso da quello che dovrebbe essere perché le piastre dovrebbero avere quando sono spente un 70 ohm cada uno questo non avviene e in più c'è il fusibile che è bruciato ora andremo a sostituire il fusibile e le due piastre allora queste sono le piastre che andremo a rimpiazzare questo è il nuovo fusibile andiamo a mettere prima la pasta termica che si trova in questa bustina qui su una parte della piastra l'altra sull'altra parte della piastra mettiamo le due piastre e andiamo poi a rimontare il tutto ecco qui amici abbiamo rimontato le nostre piastre nuove più il termo fusibile ora andremo a rimontare direttamente sulla nostra piastra allora amici di tube abbiamo rimontato la nostra piastra ghd abbiamo messo le nuove le nuove piastre più il termo fusibile ora andiamo a provare la piastra se si accende ecco qui piastra finalmente riparata vediamo se riscalda si non riesco a farvi sentire il calore però vi assicuro che brucia se vi è piaciuto il video come sempre lasciate un like iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video vediamo